ciao allora benvenuti in un nuovo video dunque prima di iniziare devo dire assolutamente una cosa vi ricordate nella vecchia my beauty box che avevo trovato quei mini 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 rossettini della wii makeup uno nude e uno viola che vi ho detto il viola non si porterà mai applicate tamponate un illuminante sopra per me è carinissimo ok detto questo oggi invece tutt'altra cosa perché vi devo mostrare assolutamente la box di abibi questa qui allora ho solamente tolto qui i dati personali perché c'era una mega etichetta ma ancora chiusa si vede anche dallo scotch è ancora una strata e la scopriremo assieme però prima devo andare come sempre a parlarvi dei prezzi dei costi dell'abbonamento quindi foglio la mano vi devo dire sempre tutto allora intanto c'è un codice sconto per voi di ben 10 euro infobox vedete sempre tutti i codici quindi guardate sempre l'info box perché tengo i codici aggiornati quindi approfittatele in questo caso 10 euro di sconto sui vostri acquisti da abibi poi box in abbonamento è una cosa un po particolare e sinceramente la box ce l'ho qui da qualche giorno ma mi sono dovuta far spiegare bene come funzionava perché i ragazzi dell'agenzia non avevano capito bene neanche io ho capito bene e sinceramente e quali servizi clienti di abibi hanno cercato di spiegarmelo e hanno spiegato anche abbastanza bene ma ho voluto chiedere conferma anche delle ragazze stude sia su instagram che su facebook per capire se funzionava davvero così e sì me l'hanno confermato allora la box ha un abbonamento di tre e sei mesi quindi c'è l'abbonamento di tre mesi a 89 euro e 70 che li prendono il primo mese poi prima volta poi per tre mesi tra posto se no quello di sei mesi 149 e 40 spedizione sempre gratuita ed è un abbonamento che si rinnova quindi dovete sempre rinnovarlo voi quindi dopo tre mesi mettere voi soldi nella carta perché loro si nome automatico oppure disdirlo o sospenderlo si può disdire quindi cancellare e sospendere quindi fermare se lo disdiciamo disdiciamo si si dice se va disdetto però attenzione perché se voi avete pagato tre mesi lo cancellate ma i tre mesi non vi danno indietro i soldi ma vi daranno le box che mancano ad esempio tre mesi voi prendete due box e poi lo pulite basta no vi arriverà anche la terza e poi si ferma se invece lo sospendete ad esempio in questo caso sei mesi è meglio sei mesi fate uno due tre ad esempio poi dite devo andare in ferie questo mese e non sono a casa per ritirarla fermatela ok la fermiamo quindi il quarto mese si ferma quando le riattivate andate tac 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 e prendete gli altri tre mesi che mancano ad esempio non so se mi sono spiegata è più facile farlo che dirlo ok poi però con il codice promo che vi ho dato di 10 euro perché c'è una box prova la box prova costerebbe 29 euro e 90 e invece con questo codice le avete a 19 euro e 90 sempre spedizione inclusa si spedizione inclusa e quindi è una buona prova però dovete ricordarvi dopo la prima box di fermare l'abbonamento se no dopo la prima box vi parte l'abbonamento da tre mesi è un po complesso forse ci vuole uno schermino però davvero ci sono tantissime ragazze su facebook soprattutto che l'hanno spiegato benissimo box prova un mese 19 e 90 però poi dovete fermarlo in poco tempo perché se no dopo qualche giorno vi parte l'abbonamento di tre mesi e vi tolgono anche i 89 e 70 credo di avere detto tutto perché sono quattro minuti che sto cercando di spiegare direi che ora di guardare la box che è questa qui rosa molto carina e sì però magari se l'aprivo prima ok perché c'è proprio lo scoccio quindi fortuna che me lo dice qualcuno sei bella mi piace grazie fortuna che me lo dice qualcuno ok ci sono giornali prima vediamo allora dopo però ve la faccio vedere a voi super giornale uno aspettate perché ci potrebbe essere lo spoiler quindi ok lo guardiamo dopo lo metto qui poi vediamo cosa c'è dentro io c'è uno sconto dice quando scade perché sappiamo benissimo che con queste box che mandano a random a chi fa video potrebbe essere che è scaduto e io chiedo prima il libro perché ho paura che sia scaduto ovviamente quelle che mandano alle youtuber sono box di edizioni passate che sono rimaste magari qualche numero e mandano quelle andiamo avanti spero che non ci siano altri codici però ragazzi ma tutte le box video che siano così quando le mandate io vi dico grazie grazie stile perché così è anche un modo per mostrare il vostro prodotto cosa qualcosa consiste però almeno lo sconto che è scaduto toglietelo almeno quello almeno che la box non fosse già sigillata vabbè poi linea capelli questo mese vi faccio scoprire i best seller del brand acquistabili sul nostro shop ah sì perché bibi è anche uno shop online di tutti i marchi di prodotti ed è abbastanza infatti il box sconto di 10 euro e valido anche sullo shop shampoo balsamo con 90 per cento di ingredienti di energia naturale e siero protettivo lucidante va bene ok e vediamo poi cosa vuol dire allora infatti ho notato una cosa che la box è questa ah le chips sono quelle biodegradabili non sono quelle in plastica quindi vanno nell'umido ecco almeno è una cosa buona e però ho sposto la roba perché non capisco ok questa è vuota la mettiamo qua e poi è tutto contenuto in questa borsa carina la borsa a collaborazione con iox shop fashion design art vitamin c quindi sarà stata quella di luglio o di agosto immagino come box e a questo punto dobbiamo andare a prendere i prodotti dalla borsa che oltretutto è una bella borsa una shopper non ci piace tiro fuori tutto poi guardiamo a questo punto ok borsa in tele sempre utile vediamo cosa c'è questi ho già capito e la sono si esatto sono proprio campioncini in questo caso di questo brand che avevamo parlato quindi campioncino di shampoo balsamo e il siro ok ma sono campioncini non sono contenuti nella box no non sono non erano inclusi nella box perché infatti mi hanno detto da ragazze non ve l'ho detto che la box contiene sempre quattro prodotti full size quindi questi erano in più allora il vediamo per chi sto guardando qui e non capisco allora partiamo da questo perché la nostra vecchia conoscenza l'avevamo già trovato nella box del dr botanicals infatti è del marchio dr botanicals amp infuse natural crema idratante giorno e 30 ml quindi full size 30 ml c'è il valore sul foglietto su queste istruzioni c'è il valore ah ho visto adesso aprendo il il foglio come si scrive come si dice il foglio qua che c'è scritto luglio 2020 questo quindi è quella di luglio allora non c'è il valore sono creatina io nella prima pagina ci sono tutti i valori però c'è anche lo spoiler e quindi vi dicono anche cosa c'è in tutto e oltre tutto c'è scritto a luglio quattro prodotti da urlo del valore minimo di 95 euro ecco però così mi dice tutto di spoiler e vabbè allora dottor botanicals eccola qua 30 ml 17 euro poi andiamo avanti da questo punto guardiamoli tutti questo qui acqua azzurra spf 15 capri protezione media protegge la tua pelle rispetto all'oceano a applicare il prodotto quindi è un solare che però non va ad inquinare gli oceani buono il fatto che la confezione sia chiusa questo dice che è la box da 19,90 oppure 29,90 dipende se usate un codice sconto oppure a prezzo pieno e ha già pagato solo con questo full size quindi ci siamo e poi volevo capire questo perché qui fa vedere quattro prodotti e qui due ma ho già capito perché stupida io c'è scritto tac oppure tac quindi vediamo se abbiamo avuto fortuna o no perché sono due prodotti della Kate Von D o KDV Vegan Beauty quindi vegan e potremmo trovare la Combo 1 o la Combo 2 noi abbiamo trovato la Combo 1 che è il rossetto liquido lunga tenuta la Kate Von D oltretutto un full size 6,6 ml da 22 euro e il colore vampira oh non bene scusate andiamo bene però è completamente chiuso ancora quindi lo apriamo noi e come si apre ok il problema è che se mi dicono vampira come colore beh vediamolo bello ma scorissimo è una tinta labbra quindi aiuto allora è stupendo è stupendo ma è davvero scurissimo però è bello dite come poi vi pare ma scurissimo sinceramente ancora più importabili di questo dovrò testarlo però bello bello e in questo caso la Combo era con l'ombretto olografico che è questo Alchemist Olography Transformer anche lui un full size in questo caso 18 euro ed è un 0,9 grammi sto cercando di capire come aprire questo coso da sotto sì se no potevamo trovare con la tinta labbra l'eyeliner liquido avrei preferito fosse l'eyeliner liquido ma vediamo questo ombretto che comunque Kate Bondy ci piace se mai riuscirò ad aprirlo eccolo qua vabbè il back è bellissimo si apre ah magnetico con il suo specchietto il colore è questo no vabbè è un illuminante più che un ho messo sopra il rossetto guardate che roba bello 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 bellissimo un po' polverosa dice di essere acquamarina ma bello bello bellissimo cioè questo è da solo questo è sul rossetto bellissimo ci piace ci piace questa era la fine della box quindi era tutta la box adesso e facciamo i conti abbiamo detto 22 rossetto 18 l'ombretto 17 la crema idatante dottor botanica ed è 38 acqua azzurra sun care quindi 95 è un buon valore penso che sia davvero un buon valore intanto vedo qua c'era la possibilità di trovare tre tonalità quindi motor vampira o haz beh meglio vampira che haz però molto l'avrei preferito sinceramente poi vediamo che altro c'è ecco in questo caso il secondo prodotto a scelta poteva essere o l'ombretto o l'eyeliner poi vabbè questo il dottor botanicals e l'ultimo acqua azzurra si poteva trovare solamente nel 15 spf 15 basta però spiega anche il fototipo di pelle per scegliere il salare più adatto a noi la tintarella sicura il make up da spiaggia è bello anche da leggere su vari prodotti in veneta sui loro sito si è carina è carina anche come libricino da leggere e allora adesso la parola a voi fatemi sapere se vi ha ispirato questo tipo di box quindi sono è una box sempre con prodotti vegan e curly free sempre 4 prodotti full size quindi hanno un buon valore e vi ricordo che poi ci sono questi e poi mi ha trovato quindi 2 prodotti per la cura del corpo e 2 prodotti make up e quindi c'è anche una buona una buona comparazione più non dimentichiamo questi campioncini che sono in più di questo shampoo balsamo e siero per i capelli che comunque sono comodi da provare niente fatemi sapere voi che cosa ne pensate se vi è ispirato se conoscevate questo tipo di box e se voi la già usavate quindi se è un caso che i prodotti siano 2 2 di corpo e viso e 2 di make up oppure se fanno sempre metà make up e metà e dei cosmetici fatemi sapere e niente vi ricordo lo sconto qui sotto nell'info box per 10 euro di sconto che mi sembra un buono sconto e noi vi do appicamento al prossimo video e alla prossima ciao ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estrago ogni mese ciao